Il tuo, il tuo figlio! Senti! E' dentro di me, stay with you! Senti, classificati! In stessa posizione con il numero 117 interna Italia, Marcia Antonio in linea Francesca! Grazie, bimbi! Pitti, classificati ancora per l'Italia, Masì Stefano D'Armasso Giulia! Guardi, classificati ancora per l'Italia, Vittorio Alessandro e Aladuì! In terza posizione sul podio ancora per l'Italia, L'Italia, Albert Tosse! Noi, uva! Senti, classificati ancora per l'Italia, Senti, non so se non è un'esploma, Istroen! Abbi! 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 Abbi!